Sempre meno toscani lasciano la montagna, anzi ci sono segnali positivi di ripopolamento dopo anni di esodo. È uno dei dati emersi dagli stati generali sulla montagna toscana organizzati da Regione e Anci a Firenze. Amministratori e tecnici riuniti per confrontarsi anche sui risultati della ricerca di IRPET che mostrano una montagna toscana colpita duramente dalla crisi economica ma in grado di reagire con i suoi 188.000 addetti, attivi soprattutto in ambito agricolo e industriale. E ora la Regione, ha detto l'assessore all'agricoltura Marco Remaschi, prevede azioni specifiche per questi territori. Politiche integrate per far sì che non solo le risorse finanziarie delle aree interne ma anche risorse integrate dei fondi strutturali possano permettere risposte vere a questi territori. Risposte da dare ai quasi 600.000 residenti distribuiti su 128 comuni montani, più o meno un quinto della popolazione toscana distribuita su un territorio che può dare contributi significativi anche nell'ambito dell'approvvigionamento energetico. In montagna proprio l'impiego delle biomasse può da una parte contribuire alla valorizzazione della filiera del legno ma dall'altra anche consentirci di affrancare parte del territorio toscano, parte consistente del territorio toscano dall'approvvigionamento energetico da fonti tradizionali di tipo fossile. La montagna toscana con i suoi comuni che hanno una dimensione media di 4.000 abitanti è anche una risorsa preziosa per turismo e commercio a patto che siano superate le difficoltà nella gestione dei servizi dispersi sul territorio sfociate in molti casi nella nascita delle unioni dei comuni o nelle fusioni. Dobbiamo fare una politica vera sulle infrastrutture, sui servizi, su ciò che dà dignità alle comunità. Non si può vivere in montagna pensando di stare lontani dalle scuole, dagli ospedali, dalle grandi infrastrutture, dalle opportunità di lavoro. Tra i dati positivi emersi dagli stati generali sulla montagna toscana c'è quello della copertura attraverso le infrastrutture tecnologiche a partire dalla banda larga. Noi avevamo fatto un bando nel quale rimaneva coperto l'88% della popolazione nel bando di gara. Siamo arrivati alla gara definitiva che invece ci copre il 99% della popolazione. Un passo avanti per dare a chi vive e lavora in montagna le stesse opportunità di chi si trova in città.